Amadeus spiazza Fiorello con una rivelazione indiretta che indispettisce lo sciomen siciliano. Scaramuccia epocale tra i due. Difficile immaginare una coppia più complice e coesa di quella che unisce il conduttore Amadeus e lo sciomen Fiorello. I due partners in crime hanno contribuito allo stellare successo delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo, in cui il mattatore Emiliano ha funto da Anchorman e direttore artistico, mentre Fiorello ha impreziosito la rassegna con interventi e sketch assolutamente imperdibili. Eppure, nonostante il legame inossidabile tra i due, Amadeus e Fiorello nelle scorse settimane si sono pungolati a vicenda indiretta nel corso del programma mattutino, Viva Rai 2, arrivando ad uno spassoso battibecco di fronte agli spettatori della rete. Il pomo della discordia sarebbe un nuovo programma, ideato dai vertici di Viale Mazzini. La scaramuccia tra Amadeus e Fiorello a, Viva Rai 2, Amadeus è riuscito nel gravoso intento di risollevare lo share e la reputazione del Festival di Sanremo, e dopo un quinquennio di successi al timone delle Kermesse ha deciso di lasciare il testimone ad un ancora sconosciuto successore. Il conduttore Emiliano ha recentemente raccontato in un podcast di essere approdato casualmente sul palco dell'Ariston, ammettendo che i vertici Rai lo avrebbero considerato una seconda scelta, e di essersi messo in gioco per puro spirito di avventura. Attualmente non si conosce il destino del conduttore nel panorama della pubblica emittente, ma durante la diretta di, Viva Rai 2, di giovedì 7 marzo Amadeus ha accolto in fallo Fiorello, e dato fiato ad un'anticipazione che promette il ritorno della coppia in un nuovo format. La chimica tra i due colleghi è assolutamente palpabile, e i vertici di Viale Mazzini avrebbero deciso di replicare il successo della rassegna musicale in un nuovo programma ancora da definire. E' quanto si evince dalla puntata di, Viva Rai 2, del 7 marzo, in cui Amadeus, contattato dall'irriverente padrone di casa, ha sganciato la bomba in diretta, mi hanno chiesto di fare in autunno, o più avanti, una serata io, te e gli Amarello. E io ho risposto, quando saremo insieme in vacanza in Sardegna gliene parlerò. Epocale la replica di Fiorello. Ma ti fai retroscena miei? Parla dei tuoi. Non resta che attendere l'ufficializzazione del progetto e seguire le gesta della simpatica coppia. La mia vita è la mia vita è la mia vita è la mia vita. Grazie a tutti.